Musica All'angolo rosso, al peso di 83 kg Per la biofantistica olimpia, Erdos Schetti All'angolo play, per l'asco di pezzo, al peso di 81 kg Johnny Cochi Alla fine della finata premiamo anche gli sponsor Diamo il logo della serata Il piatto, il riconoscimento di questa meravigliosa serata di sport A tutti gli sponsor e cochi I secondi Primo round del per ultimo incontro di Luigi il signor Di Clementin Salve Ottimo Guardate, rimani fidanciato, dai Niccoli Crozza del sinistro Johnny Prendi tutto attivo Bravo Dai, vittimo, interno Non ti buttare Non ti buttare Senti attivo Senti attivo Senti attivo Senti attivo Senti attivo No, ti buttare Bravo A che sotto? Bravo! Siamo usciti da su! A che sotto? A che sotto? Non si vincere! Non si vincere! Non si vincere! No! Non si vincere! E questo è un po' inizio! Ehi! Ciondi! 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 Ma voglio vedere il braccio! Che lo so di lui! E' troppo a loro! Non si vincere! troppo addosso, troppo addosso, troppo addosso! esatto! anche sotto, la voi non aggiorno! bravo, la tua, 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 la tua! bravo, dai! bravo! non è andato a costo, Johnny! bravo, Johnny! adesso è andato a costo, la sinistra e la destra, Johnny! non è il simbuntale, ci doviene lui! bravo, dai! bravo! bravo, Johnny! bravo, Johnny! rottorniamo in primo round! poi il secondo! secondo round! il passetto dietro lo vedi che dopo arriva il gioco gioco bello gioco in uscita bravo non ti fermate il gioco bene il gioco non partiamo a andare bravo dai bravo fai lo spreccio a lui fai lo spreccio a lui bravo dai ragiona ragiona lì alza le mani bravo dai gioco incrocialo Johnny a distanza a distanza a distanza scoprici interno fastidio Johnny non diputare ascolta interno doppia doppia non è più alza la sinistra alza la sinistra non lo fa controllo presto presto non piacchi i golpi dai croco bravo ragion alza la sinistra הזale alza il mare attento al destra grazie e què quindi bravo e qui bravo eccolo Segui i colpi, segui i colpi quando si fanno questi gacci Stai lì, stai lì Fai l'invito Il goce è bene il primo Alza le mani Metti quel gaccio Gianni, Gianni, non ti darei bucani, scontaci Alza le mani Fin da qui e papi Fin da qui e tu Alza le mani Bravo, bravo Termina il secondo round E' un bravo, terzo e ultimo round Fuori i secondi Per ultimo incontro della serata Vengamo tutti da batti là a cena Bravo, bravo 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 presto presto bravo gianni gianni prestalo 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 attivo su quel colpo dai bravo insieme quel caso bravo doppiali dai dai e dai e dai dai bravo dai dai in tempo bravo bravo in tempo bravo bravo sopra, bravo, così, non lasciarlo, non lasciarlo, vai, incrocialo, dai, non fanno il passetto, non fanno i passetti, non fanno i passetti, non fanno i passetti, non fanno i passetti, alzano le mani, alzano le mani, vintalo, vintalo, incrocia, tre colpi, tre colpi eh, è tuo già, è tuo, via, bravo, 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 incrocialo già, bravo, incrocialo giocciolo, 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 fanno venire, fanno venire, è chiuso, è Chiuso, incrocio, buttativo, vai dai Gianni, vai dai Gianni, bravo, 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 vai dai Gianni, e andiamo al volto del penultimo incontro della serata. Gianni Copciano, quello che è, e Eros Seghetti, all'angolo rotto. Poi, ragazzi, sai che senso? Ah, non c'è, non c'è. Ah, sì, non c'è, non c'è. No, non c'è, non c'è. Grazie. 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 Grazie.